Al fuoco! Ehi poltroni smettetela di cantare, non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta! Cosa hai detto, nonno? Volevo dire che sta bruciando la barbetta! Ma che dici, nonno? No, volevo dire la trombetta, no, la polpetta, cioè no, la pancetta! Vuoi dire forse la casetta? È meggiore che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi? Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va. Solo? Senza una meta? Solo? Ma c'è un perché? Aveva una casetta piccolina in Canada, con masche e pescioline e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto, Pinco Panco li incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete. E questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con masche e pescioline e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Dicevano che è bella la casetta in Canada. Ehi Pannuloni, non sentite la campana? Cosa brucia questa volta? Ehi, non fate domande stupide. Oggi è il 27, cosa volete che bruci? La solita casetta di Martino, no? Ma un giorno per dispetto, Pinco Panco li incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Minoio Sosso del Pordenone, cosa sei che ha fatto Martino? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con masche e pescioline e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Ehi Pannuloni, sapete la notizia? Cosa c'è, nonno? E' arrivato un telegramma di Martino. E cosa dice? Dice, stufo Pinco Panquet, Canada stop, costruirò casetta altra località. Non fece più la casa piccolina in Canada, con masche e pescioline e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze non la videro mai più, perché la sua casetta se la fece. Non fece più la casa piccolina in Canada, con masche e pescioline e pescioline. E tutte le ragazze non la videro mai più, perché la sua casetta si sta a fare la casa piccolina in Canada. E tutte le ragazze non la videro mai più, perché la sua casetta si è bella e più, perché la sua casetta si è bella. Grazie. Grazie.